mentre meno mentre questa cavola di influenza speriamo che il vaccino antinfluenzale scapresca mannaggia mannaggia ci ritroviamo questo ultimo video di oggi 11 e 40 minuti di primi di giovedì 29 ottobre 2020 parliamo tramite anche il coordinamento di johnny della puntata speciale andato in onda nella notte scorsa di nxt halloween evoc johnny gargano in uno strepitoso match ha battuto e ha riconquistato quello che è stato almeno una volta credo suo regno titolato da campione nordamericano quindi lo ha riconquistato santo sescobar ha battuto jake atlas ria ribble ha battuto rachel gonzalez poi altrettanto straordinario haunted house of terror match tra dexter lumis contro cameron grimes che ha visto la vittoria di dexter lumis e alla fine in un table sliders and chairs match yoshirai ha mantenuto il titolo femminile battendo kendish larae bene grazie a voi tutti noi ci vediamo domani per altri video quindi buona a tutti e ciao 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 ciao